Sono Laura Antichi, vi parlerò di peer review e self-review. Questa è una introduzione. L'obiettivo di peer review è comprendere l'importanza di fare peer review, conoscere gli strumenti disponibili, usare checklist ed eventualmente delle mappe. Ci sono diversi tipi di valutazione, la formativa, il self-assessment e la sommativa. La valutazione formativa si basa sul feedback contestualizzato continuo tra docenti e studenti, tra singoli studenti, tra gruppi di studenti. Self-assessment si basa sulla autovalutazione rispetto al proprio impegno, la propria motivazione, al proprio coinvolgimento, al raggiungimento degli obiettivi. La valutazione sommativa tiene conto degli esiti previsti dal curriculum, si traduce in un voto ufficiale per il superamento del livello di prestazioni che sono previste. Fanno parte della valutazione autentica il self-assessment e la valutazione formativa. Quattro sono le dimensioni della valutazione autentica, di fatto, rispetto a fatti ed eventi, concettuali, rispetto ad idee e concetti, tre procedurali, rispetto a come fare, quattro metacognitive di spiegazione e riflessione. Vediamo ora una descrizione veloce di peer review. Peer review, gli studenti danno e ricevono una valutazione dai propri pari. Gli studenti presentano il loro lavoro individuale o di gruppo e quindi devono dimostrare capacità di negoziazione e di persuasione, capacità di mettersi dal punto di vista degli altri, di saper valorizzare la diversità e l'inclusione per generare idee nuove. Gli antefatti di peer review di gruppo. Gli studenti lavorano in un gruppo per creare un artefatto di conoscenza. Gli studenti assumono responsabilità reciproche, prendendo decisioni sui ruoli. Gli studenti utilizzano strategie interdipendenti. Gli studenti hanno a disposizione due tipi di rubrica, self-assessment e peer review. Gli effetti della peer review. Chiedere agli studenti di valutare il loro lavoro tra pari, li porta a assumere responsabilità, individuare e specificare criteri, usare una scala qualitativa di valutazione. Gli effetti del peer review. Il giudizio di peer review fornito dal gruppo è maggiormente valido perché supportato e condiviso. Nel momento di peer review, gli studenti non solo lavorano sui prodotti dagli altri, ma ripensano e rivisitano i propri. Obiettivo di apprendimento in peer review. Familiarità con i criteri di valutazione. Imparare dagli altri. Mutuo supporto. Comprendere il valore del feedback. Impegnarsi nella missione di apprendimento. Sviluppare attitudini e competenze riflessive. Valutare in peer review. Il docente predispone all'uso degli studenti rubriche per peer review. Una delle rubriche esempio da utilizzare per il peer review è quella che vedete qui. Abbiamo dei scrittori che rispetto quindi al contenuto, alla presentazione, alle competenze, alla coerenza organizzazione, alla creatività e alla collaborazione. Poi abbiamo i livelli. Eccellente, buono, medio, sotto la media. Questa rubrica potrebbero utilizzarla gli studenti quando guardano al lavoro dei compagni e lo valutano. Si potrebbe anche pensare, se si è in ambiente Moodle, di utilizzare l'apposito plugin di Moodle che si chiama workshop, che serve per la valutazione e per distribuire automaticamente random i prodotti degli studenti agli altri studenti e per realizzare una valutazione finale. Il docente quindi potrebbe attivare e settare workshop all'interno di Moodle e quindi si potrebbe in questo modo rendere più automatica la valutazione di peer review. Vedete qui che l'ambiente Moodle è a workshop plugin che è stato quindi implementato in una piattaforma Moodle ed vi dice che la valutazione ricevuta dagli studenti si compone di due parti, una valutazione per la propria consegna e una valutazione per aver valutato le consegne degli altri studenti. quando usare peer review in un EAS, ad esempio, in episodi di apprendimento situati è consigliabile utilizzarlo alla fine del momento operatorio quando gli studenti hanno completato e condiviso la loro attività. questa è la scheda che vi fa vedere i momenti dell'EAS di progettazione, i momenti dell'EAS e quindi nel momento operatorio. Vediamo ora che cosa è il self review è uno strumento interessante da introdurre nella didattica che cosa si fa con self review lo studente riflette e valuta il proprio lavoro scrive un commento guidato da rubrica di feedback il docente quindi può predisporre una rubrica di self review nel commento di self review lo studente identifica i gaps nelle sue conoscenze e prestazioni le sue misconceptions trova i propri punti di forza e di debolezza in rapporto ai criteri di giudizio e alle attese che erano state condivise con docenti e pari e in rapporto all'emissione che gli era stata assegnata gli obiettivi di self review sono colmare il divario tra aspettative e prestazioni evidenziare le proprie realizzazioni sottolineare alcuni aspetti da migliorare si possono creare delle linee guida per self review predisponendo anche qui una rubrica di valutazione la rubrica potrebbe consistere in domande aperte o chiuse di interesse per favorire la riflessione sono le domande aperte senz'altro e quindi si potrebbe preparare una rubrica esempio che cosa avrei potuto fare meglio quali sono stati i miei punti di forza come posso potenziarli quando avrei potuto prendere un'iniziativa personale i risultati ottenuti sono soddisfacenti in base alle mie aspettative quale punteggio da 1 a 10 mi attribuisco quindi è una rubrica situata di self assessment rispetto ad un compito che era stato svolto e quando usare self review preferibilmente in due occasioni alla fine del momento operatorio parallelamente a peer review e a conclusione del momento ristrutturativo come riflessione personale su quanto è accaduto buona serata buona essere allora Grazie a tutti.